Ciao e benvenuto sul nostro canale! Nel video di oggi impareremo come difendere i nostri cavoli da un pericoloso parassita, la cavolaia. La cavolaia è un parassita che può causare danni significativi alle colture di piante della famiglia delle brassicacee, come cavoli, cavolfiori e broccoli. Prima però metti un like e segui il nostro canale e la nostra pagina. Così facendo aiuterai noi a far conoscere il nostro canale e rimarrai aggiornato sui nuovi video. La cavolaia, conosciuta scientificamente come Pieris rapae, è una farfalla bianca ai cui vermi cavolaia si nutrono delle foglie delle piante ospiti. Questo può compromettere la salute delle piante e ridurne la produzione. Nei casi più gravi, le larve divoreranno interamente la nostra pianta. Per proteggere le nostre piante dalla cavolaia, possiamo adottare diverse misure. Innanzitutto, possiamo utilizzare coperture fisiche come reti o tessuti leggeri per impedire alle farfalle della cavolaia di depositare le uova sulle piante. Un'altra strategia efficace è la rotazione delle colture. Evita di coltivare le piante della famiglia delle brassicacee nello stesso luogo ogni anno, in modo da ridurre la presenza di larve di cavolaia nel terreno. Inoltre, puoi piantare altre piante associate vicino alle brassicacee. Pianti aromatiche come la menta, la salvia o il timo emettono odori che possono scoraggiare la cavolaia. Monitorare regolarmente le piante è fondamentale. Ispeziona attentamente le foglie alla ricerca di larve o farfalle della cavolaia. Se noti larve e la tua coltivazione non sarà molto estesa, puoi rimuoverle manualmente o utilizzare un insetticida a base di piratronaturale. Nel caso di un'infestazione grave, potresti dover ricorrere a insetticidi specifici per combattere la cavolaia. Assicurati di utilizzare prodotti approvati per l'uso sulle colture e segui le istruzioni sull'etichetta. Se preferisci un approccio naturale, considera l'utilizzo di metodi di controllo biologico, come l'introduzione di insetti predatori o parassitoidi che si nutrono delle larve di cavolaia. Ricorda sempre di mantenere il tuo giardino pulito e sano. Prendersi cura delle piante e intervenire tempestivamente in caso di infestazione possono contribuire a prevenire e gestire il problema della cavolaia. Se desideri avere maggiori informazioni su prodotti specifici da utilizzare contro le infestazioni da cavolaia, commenta questo video e riceverai una risposta in poche ore. Spero che questi consigli ti siano stati utili nella difesa delle tue piante contro la cavolaia. Grazie per aver guardato il video e buona fortuna col tuo orto idroponico con la torre eoliana. Se il video ti è piaciuto regalaci un like e metti mi piace alla pagina.